Siamo al Senato della Repubblica per un evento organizzato da un gruppo di lavoro che si è costituito due anni fa su iniziativa di Roche per analizzare l'impatto dei PROS, i Passion Reported Outcomes, gli esiti di salute riportati direttamente dal paziente senza l'interpretazione del clinico. Siamo con Carmine Pinto, già presidente FICOG, la federazione dei gruppi cooperativi impegnati nella ricerca oncologica. Professore oggi avete lanciato un appello alle istituzioni, perché? Il perché è perché dobbiamo aggiungere la qualità alla quantità. Oggi abbiamo prodotto studi, abbiamo introdotto nuove terapie che hanno migliorato l'efficacia delle cure in maniera sostanziale. Oggi dobbiamo aggiungere all'efficacia la qualità e soprattutto riuscire a comprendere come i pazienti esprimono la qualità di vita percepita loro stessi. Quindi introdurre i PROS e i PROMS nei meccanismi valutativi di rimborsabilità e di registrazione dei farmaci. Noi abbiamo già avuto delle interlocuzioni con l'agenzia, con il professor Palù, perché si possa lavorare, avere delle linee guide anche per le aziende nel momento in cui iniziano le processi di rimborsabilità, avere le indicazioni su come dare questo tipo di dati. Perché questo è un dato sicuramente importante, perché riuscire a percepire la qualità di vita da parte dei pazienti è quello che può favorire tutta la nostra attività da una parte e dall'altra introduce questo tipo di valutazione nel nostro mondo, nel mondo dell'oncologia, in cui anche il mondo professionale deve maturare su come introdurre nella pratica clinica e non soltanto degli studi la recezione di questo tipo di dati. Quali sono i principali impegni contenuti nel manifesto che avete rilanciato oggi? I principali impegni è dare ascolto e dare ascolto ai pazienti, quindi la necessità che questi parametri di PROS e di PROMS prevedano la partecipazione attiva dei pazienti anche all'interno delle diverse commissioni. Parlo a livello delle commissioni dell'agenzia, parlo a livello delle commissioni regionali. L'agenzia intende l'AIFA? L'agenzia, intendo l'agenzia regolatore, intendo l'AIFA e da altro punto di vista quello che chiediamo è che si creino gli strumenti, ma anche gli strumenti istituzionali perché questi dati possono essere raccolti nella pratica clinica, un po' quello che dicevo prima, oggi utilizziamo i PROS e i PROMS negli studi, ai fini anche regolatori, questo deve essere pratica clinica, quindi migliorare la cultura di conoscenza nel mondo dell'oncologia dei PROS e dei PROMS e dare gli strumenti che sono soprattutto oggi strumenti informatici che possono permettere di raccogliere questo tipo di dati. Quindi chiediamo con questo manifesto alle istituzioni nazionali e regionali in ambito sanitario che questo diventi un obiettivo per i prossimi anni ed è sicuramente molto sfidante. E concretamente cosa si può fare per fare in modo che il paziente participi al sistema salute al pari degli altri stakeholder? Già le raccomandazioni per gli studi clinici, la 536 2014 europea, hanno uno dei principi base che il paziente deve essere coinvolto ab inizio nella costruzione e definizione di uno studio. Come può avvenire questo? E noi chiediamo insieme all'associazione dei pazienti che ci sia una presenza attiva all'interno delle commissioni regolatorie e quindi penso all'agenzia RAIFA per cui possano valutare come questi dati siano presenti agli intendi negli studi una volta che iniziano i meccanismi di tipo regolatorio, che inizi il percorso. E l'altro dato importante però bisogna dare ai pazienti gli strumenti per poter esprimere tutto questo e questo è a mio avviso l'altro passaggio importante di creare anche nel mondo che circonda l'oncologia e soprattutto nella popolazione generale del paziente dare gli strumenti di tipo informativo ma anche gli strumenti pratici e quindi l'informatizzazione è rilevante perché possono esprimere questo tipo di valutazione e noi nel nostro mondo professionale poterlo raccogliere. Quindi partecipazioni istituzionali, io in prima battuta ritengo la presenza qualificata dell'associazione dei pazienti a livello dell'agenzia, presentano i pazienti nell'ambito delle commissioni regionali e dare gli strumenti ai pazienti per poter esprimere questo dato sui PROS in maniera tale che poi possano essere valutati anche nella quotidiana pratica clinica.